Tra 6 mesi che ritorno, non facciamo regalare, addirittura, adesso abbiamo Leo, tra 6 mesi però la nuova dracma, la nuova dracma, la nuova dracma, the new dracma, aspetta, aspetta, e qua ti devo, ti devo, e qua ti devo dare delle bassorate, la nuova dracma non si può sentire, perché la nuova dracma è molto simile alla nuova dracma degli israeliani del cazzo, allora la nuova dracma non si può sentire, allora se mi dici la dracma è tranquilla, ma se mi dici la nuova dracma no, perché qua ci sta il nuova dracma e ci ha rotto il cazzo, e ci ha rotto il cazzo.